hai visto già dall'ho recuperato perché nell'ultima diretta non lo trovavo perché si era perso in mezzo a tutti gli altri libri lo faccio vedere bene un libro che sta girando moltissimo e che insomma per cominciare a discutere di cina è fondamentale non lo dico solo perché già ci conosciamo da tempo facciamo un podcast insieme e parliamo sempre in cina ma è la nostra ossessione non vogliamo che diventi anche la vostra naturalmente però ci sei sì ti vedo ok allora già iniziamo io prima di iniziare volevo anche dire che presenteremo due libri in questa diretta nel senso che presentiamo anche il tuo di cui io non ho ancora la coppia cartacea ma come vedete che si chiama ecco vedere tu che si chiama red mirror il nostro futuro si scrive in cina che esce giovedì e anche io non lo consiglio perché io e simone facciamo insieme un podcast che si chiama riscio ed è prodotto da piano p e parla di cina ma perché è un libro che secondo me è veramente veramente importante in questo momento storico e durante questa diretta cercheremo anche di capire perché ok io sono già preoccupato di come salvare poi il video adesso stavo guardando un po di cose scusate se guardavo in basso ora partiamo innanzitutto da una domanda proprio banale che però mi sembra che poi alla fine un po tutti si pongano questo tema cioè perché praticamente oggi tanto più oggi ma lo era anche prima in realtà dell'epidemia è importante parlare di cina in un certo modo e soprattutto tentare di conoscere un po meglio la cina perché noi occidentali noi italiani in generale europei dovremmo cominciare a capire un po di più come pensano i cinesi che è quello che spiega anche già da naturalmente e nel suo libro ma perché è importante perché avremo sempre più a che fare con la cina nel senso già negli ultimi diciamo 10 15 anni la cina era diventata in qualche modo un attore economico con cui avevamo a che fare ed era imprescindibile ma dopo l'emergenza del covid la cina ha acquisito a livello mondiale anche una statura ancora più forte di quella che aveva prima e a diciamo a testimoniare questo c'è la fortissima guerra di propaganda che si è scatenata in questo momento tra proprio tra cina e stati uniti perché c'è proprio potrebbe succedere insomma che il covid 19 in qualche modo ha sposti un pochino l'asse del della governance globale nei confronti della cina la cina che è partita molto in difficoltà perché è stata la prima in qualche modo dover affrontare l'emergenza del covid che all'inizio sembrava sarebbe stato il cigno nero che avrebbe in qualche modo distrutto il paese avrebbe creato la cernobil cinese e poi in realtà invece si è rivelata la cina in grado di gestirla e in qualche modo non solo la poi anche se anche presentata al mondo come quella che poteva aiutare gli altri a gestirla e poteva insegnare agli altri come gestirla e questa cosa nel momento in cui l'occidente invece era ancora in piena emergenza e gli stati uniti in maniera particolare avendo affrontato l'epidemia con molto molto ritardo perché comunque trump fino a un mese fa negava l'emergenza negava diceva che erano influenza e quindi insomma si sono trovati avere a che fare con una cina molto rafforzata una cina post covid 19 in realtà molto molto rafforzata e questo sarà lo scontro diciamo dei prossimi mesi tra l'altro trump ha un'elezione a breve e chiaramente ha è proprio salito sul carro anticinese per la sua campagna elettorale quindi sarà sempre più più forte purtroppo questo scontro quindi conoscere i cinesi conoscere come pensano i cinesi potrebbe aiutarci non arrivare uno scontro muscolare tra civiltà ma invece a cercare qualche forma di dialogo costruttivo e visto che abbiamo parlato del covid io approfitto subito per fare una domanda anche a te cioè io per te prima ancora però no perché dato che ha introdotto questa cosa usa cina che diventa sempre più importante ormai per chi si occupa diciamo di questi temi come dire è uno scontro che va avanti da tempo in particolare negli ultimi due anni la questione dei dazi eccetera ma visto che molti poi alla fine chiedono anche questo in generale quando andiamo in giro eccetera di recente appunto come hai spiegato tu trump sta puntando dritto contro la cina praticamente ha detto che ha se non l'ha creato proprio la cina il virus comunque quanto meno gli è sfuggito di mano nel laboratorio eccetera la cina dire la verità ha risposto in maniera altrettanto come dire forte no dicendo no sono stati i vostri soldati a portarci qua il virus ora come come leggono i cinesi queste accritiche e da parte di trump non dico tanto xi jinping ma se possiamo generalizzare diciamo l'opinione pubblica chiamiamola così posto che ci sia in realtà ma facciamo finta che si possa utilizzare una categoria anche occidentale anche alla cina cioè l'opinione pubblica cinese che percezione ha di quello che sta succedendo soprattutto di queste accuse di trump e come invece il partito comunista cinese utilizza un po' o meno il sentimento diciamo dell'opinione pubblica cinese cioè questo sì sicuramente viene usato perché chiaramente il partito comunista cinese in questo momento ha comunque delle difficoltà interne molto grosse perché l'economia ha subito una frenata pazzesca e l'economia per il partito comunista cinese è ciò che la legittima ciò che la tiene in vita il fatto che l'economia corra la frenata chiaramente è un problema e sicuramente questo verrà usato viene usato per in qualche modo rintuzzare rafforzare un nazionalismo molto forte un orgoglio anche di patria della cina che in questo momento sta vivendo una fase per cui si sente di star riprendendo un po il posto nel mondo che l'è stato tolto nei secoli scorsi in maniera anche violenta da parte anche dell'occidente banalmente del giappone di altre potenze che sono entrate nel territorio cinese hanno fatto un po quello che volevano per un lungo lasso di tempo quindi eh c'è un secondo me una in qualche modo un moto di orgoglio che si scatena da questa da questo attacco americano che sicuramente a livello interno verrà usato come ricollante molto forte in un momento in cui comunque ripeto non è che la Cina ha superato il virus e va tutto benissimo anzi c'è l'economia appunto la disoccupazione è alta come non mai c'è stata una frenata che non si vedeva veramente da decenni insomma ci sono grossi problemi quindi io penso che sia vista così cioè sia comunque visto proprio anche dal da dentro come alla fine è arrivato un po il nostro momento no e il fatto che l'America ci attacchi così forte attacchi il nostro modello al nostro sistema in qualche modo tra l'altro mh con delle fake news perché la questione del laboratorio di Wuhan è stata eh la Cina lo sottolinea sempre è uscita ieri vedevo la sin qua l'agenzia statale cinese ha fatto proprio una raccolta delle di quelle che lei ritiene fake news e le ha smontate tutte con un fact checking quindi la Cina è sempre meno eh accetta sempre meno la nostra narrazione su di lei è sempre più e cerca sempre di portare sempre più forte la sua la narrazione di se stessa al di fuori cosa che è successa negli ultimi anni prima non succedeva cioè non aveva la forza la Cina di far uscire dai suoi confini la sua auto narrazione adesso lo sta facendo quindi eh per quello io dico che purtroppo temo che la la temperatura di questo scontro sarà aumenterà nei prossimi mesi non sicuramente non si raffredderà proprio perché c'è uno scontro molto molto muscolare in cui ci sono in questo momento proprio due approcci e due culture e la cultura cinese è orgogliosa eh sa che ha sulle spalle è una cultura millenaria quindi non non vuole più farsi insegnare o farsi dire dagli altri che cosa è giusto o sbagliato fare soprattutto se si utilizzano fake news tipo la questione del laboratorio di Wuhan che comunque ad ora è stata smentita sia dall'intelligence sia dagli scienziati e al momento non esistono prove che possano provare questo io la mia opinione su questo è che la Cina dovrebbe obiettivamente lasciare fare un'indagine internazionale all'interno della Cina così almeno cioè sfaterebbe definitivamente i vari complottismi bisognerà capire se se si riuscirà a fare l'altro giorno l'abbasciatore cinese in Germania ha detto che sono pronti a far lasciare appunto a far correre questa investigazione internazionale bisognerà capire se succederà veramente sì sarebbe molto importante anche perché almeno diciamo si potrebbe chiarire tutto quanto è successo vedo che una delle persone che mi ascolto specifica che però tutto è partito da Wuhan quindi una responsabilità da parte cinese c'è questo non lo nega non lo nega nessuno non lo negano neanche i cinesi e sappiamo bene che tutta una serie di epidemie che sono scoppiate negli ultimi anni sono nati sono nati spesso in Asia dove diciamo esistono i cosiddetti wet market no questi mercati dove c'è molta promiscuità diciamo tra animali e umani però appunto come è stato specificato da tutta la comunità scientifica internazionale la le caratteristiche di questo di questo virus sono di origine animale cioè non esiste praticamente una prova o una possibilità analizzando anche in maniera molto specifica naturalmente la sequenza del del virus che possa essere fatto in in laboratorio quindi questo diciamo che come è un tema a proposito di quello di cui diciamo all'inizio importante nel senso che si vuole parlare come dire liberi da tutta una serie di pregiudizi di Cina bisogna riconoscere le responsabilità però non approfittare di quel ritardo che la Cina ha avuto nel comunicare l'esistenza del coronavirus o meglio di effettuare le misure per contenere il virus per diciamo appunto dare la Cina delle responsabilità che ha ma non oltre diciamo quelle che sono che sono che sono sue d'altronde questa è una cosa che può succedere ovunque e ovunque nel mondo la velocissimo vedo un altro commento che dice la risposta non di fuori l'allarme internazionale tenere nascosto il tutto in realtà la Cina il 31 dicembre del 2019 ha comunicato all'organizzazione mondiale della sanità l'esistenza di un ceppo anomalo di polmonite il problema è il periodo che è passato tra la comunicazione all'oms e la quarantena praticamente esatto e soprattutto la l'ufficializzazione del contagio uomo uomo che la Cina ha reso ufficiale il 20 di gennaio quindi c'è stato un lasso di tempo di 15 giorni che viene riconosciuto come un gravissimo ritardo è stato riconosciuto addirittura dalle autorità cinesi come un gravissimo ritardo dopodiché il 23 gennaio è iniziata la quarantena e la Cina ha portato avanti tutta una serie di misure drastiche che abbiamo visto e dopodiché la responsabilità come dire è passata ad altri cioè nel senso se questo virus da epidemia è diventata pandemia diciamo che dal mio punto di vista ma non solo dal mio punto di vista la responsabilità è un po' diffusa e condivisa la cosa che ci ha fatto scoprire il covid Simone è che la Cina da un certo punto di vista è futuro cioè abbiamo scoperto che la Cina non è un paese dove ci sono le risaie e dove si diciamo si producono prodotti a basso costo e quindi la fabbrica del mondo no che è un'idea che è un pochino forse risale a quindici anni fa ormai ma che in Italia è molto molto ci siamo ancora un po abbiamo un po ancora quell'immaginario della Cina lì ma nel frattempo in realtà la Cina è diventata un paese che appunto per certe cose è proprio futuristica ma abbiamo scoperto che in realtà è un futuro che è molto più vicino di quanto noi pensassimo perché sì allora questa è una cosa che mi ricordo quando sono arrivato in Cina nel 2006 praticamente si faceva tutto con la carta e timbri documenti qualsiasi cosa ovviamente cash per pagare qualsiasi cosa la percezione diciamo all'epoca era quella di un paese che stava cambiando ma che come dire era ancora un po distante praticamente no dal mondo occidentale noi sembravamo in quel momento un po più avanti anche da un punto di vista delle soluzioni tecnologiche praticamente in dieci anni mi sono ritrovato a fare tutto con lo smartphone pagare fare presentare documenti cose che servivano per gli uffici prenotare tutto quello che facciamo noi oggi diciamo comunemente anche con le nostre applicazioni e soprattutto per lo più a usare ad esempio la faccia nel senso che il riconoscimento facciale è praticamente come dire una cosa quotidiana tutto questo comparto tecnologico cinese che fa parte proprio di un preciso in realtà disegno della dirigenza cinese quello appunto di trasformare il paese da un paese che esporta per lo più manifattura a basso costo a un paese che esporta invece tecnologie ad alto costo ricordiamo che la maggior parte delle telecamere a riconoscimento facciale o quelle che vengono chiamate telecamere intelligenti che sono utilizzate in occidente sono prodotte in Cina e la Cina è il principale produttore e anche esportatore ormai oggi di robot che non significa solo il robottino che sta nel bar ti serve il caffè o quello che sta in casa e fa alcune mansioni ma parliamo ad esempio di automazione industriale quindi ad esempio fabbriche senza più umani naturalmente questo comporta tutta una serie di problematiche persone che perdono il lavoro e necessità quindi di ricollocare queste persone o riaggiornarle magari perché possano essere più utili diciamo al processo produttivo automatizzato senza che perdano il lavoro e più in generale comunque questo ha cambiato completamente la vita dei cinesi di chi vive in Cina dove non si usa più cash dove si fa tutto con le applicazioni e dove addirittura a causa delle applicazioni con l'uso delle applicazioni si viene anche valutati come dire se si è cittadini virtuosi affidabili o meno tutto questo che a noi può sembrare in apparenza una specie di distopia in realtà è molto più vicino e l'abbiamo visto proprio nell'emergenza del coronavirus nel senso che noi poco prima dell'epidemia non ci siamo mai posti il problema ad esempio di essere tracciati nel senso che lo siamo di fatto ma non ci siamo ogni volta che facciamo un post su Facebook i nostri dati sono costantemente praticamente a disposizione delle aziende che lo utilizzano lo facciamo sapendo che naturalmente i nostri dati possono essere utilizzati almeno le persone un po' più diciamo a conoscenza dei meccanismi praticamente distrazione dei dati da parte delle piattaforme ma ci siamo posti con l'epidemia per la prima volta il problema ad esempio la questione di cosa che fine fanno i nostri dati nel momento in cui veniamo tracciati quotidianamente e soprattutto diciamo che cosa può nascere dall'utilizzo di questi dati e rispondo subito velocemente a una persona che chiede se anche nelle zone rurali sì anzi le zone rurali sono state diciamo l'avanguardia di questa trasformazione pensate che ad esempio l'e commerce si è sviluppato per lo più nelle zone rurali dove ad esempio contadini o comunità rurali sono messi insieme a vendere i propri prodotti online teniamo presente che in Cina c'è un numero altissimo di persone collegate a internet e quasi tutte si collegano dallo smartphone l'98% praticamente dei centinaia di milioni di persone che hanno collegamento internet si collegano via smartphone e proprio nelle zone rurali è dove sono nate le prime in realtà reti ad esempio di appunto di e-commerce e di utilizzo anche di tutta una serie di app proprio per la distanza o per la difficoltà ad esempio avere gli stessi servizi che si hanno nelle grandi città e vengono utilizzati quindi come dire le applicazioni e tutti i servizi praticamente online ok io vorrei chiederti allora siccome ce l'hanno anche chiesto no se in Cina c'è un'attenzione alla privacy se c'è attenzione alla privacy allora in Cina diciamo la privacy è molto diversa rispetto a noi nel senso che i cinesi storicamente sono da sempre abituati a essere controllati cioè quindi in realtà c'è l'accettazione diciamo a rinunciare a qualche libertà personale se questo può servire a in qualche modo garantire sicurezza e stabilità al paese appunto su questo volevo che tu ci parlassi un po' dei famosi Siong cioè il sistema dei crediti sociali che io parto da sinologa vi dico che credito in cinese la parola proprio ha dei significati diversi rispetto alla nostra perché ha anche dei significati positivi legati all'affidabilità e alla sincerità e quindi vorrei partire da questo per farti spiegare insomma tu ne parli nel tuo libro io ne parlo in maniera molto più superficiale ma tu affronti in maniera molto molto approfondita questo tema che a noi in realtà inquieta molto l'idea no di un sistema di vite a punti spiegaci perché in Cina invece funziona in qualche modo non è visto male sì intanto diciamo che cos'è cioè un sistema ancora a livello nazionale esistono delle sperimentazioni locali a livello nazionale esistono soltanto le cosiddette black list più in generale il sistema dei crediti sociali è proprio come dire l'idea che tutte le persone in futuro saranno sottoposte a un punteggio e sulla base dei propri comportamenti più o meno virtuosi in sede amministrativa penale o anche di questioni legate ad esempio all'educazione civica come ad esempio uno fa la raccolta differenziata tenete presente che in Cina quando vai a fare la raccolta differenziata hai le telecamere con riconoscimento facciale che vedono se la fai bene praticamente ok quindi se la fai male corri in tutta una serie di sanzioni appunto che per dire se uno si dimentica diciamo diamo per assodato che lo fa non con malafede si dimentica di pagare una multa va a comprare un biglietto di treno e improvvisamente scopre che non può comprarlo proprio perché si è comportato male in precedenza e quindi non ha praticamente accesso a tutta una serie di servizi in alcune città esistono queste sperimentazioni le persone hanno ad esempio un punteggio di 100 e sulla base dei propri comportamenti questo punteggio sale e scende esistono anche i modi naturalmente per recuperare attività ad esempio di assistenza agli anziani o le attività che organizza il partito in questo modo le persone riescono a recuperare punteggio ora noi tutto questo ricorda black mirror che si chiama nose dive nelle quali praticamente le persone valutano si valutano l'uno con l'altro e sulla base dei punteggi che ottengono ad esempio non possono affittare una macchina perdono il lavoro eccetera in Cina non siamo ancora a questo livello nel senso che ad esempio i comportamenti social non sono ancora considerati tali ma pensate cosa potrebbe succedere se lo venissero considerati ad esempio io ho come amica Giada che fa attività magari di informazione contro il partito comunista e per questo anche io finisco diciamo in cattiva luce e posso come dire non è ancora messo a punto però è una potenziale soluzione che potrà essere essere diciamo sperimentata questo sistema in realtà dai cinesi almeno io sono stato in Cina ancora un anno fa proprio anche per andare a vedere tutta una serie di posti dove si fanno queste cose tecnologiche automazione eccetera viene accettata perché in cambio diciamo di questo controllo di fatto si percepisce una migliore sicurezza nella vita ad esempio cittadina e se ci pensiamo è come dire una sorta di patto che bene o male facciamo anche noi molte volte abbiamo fatto anche noi molte volte nel corso soprattutto degli ultimi anni oppure che stiamo per compiere ad esempio credo che praticamente quasi tutti siano disposti ad accettare di essere tracciati per avere la certezza diciamo di non incorrere praticamente in persone contagiate questo naturalmente può essere utilizzato per un fine positivo che è quello appunto della sicurezza sanitaria ma nel momento in cui questi nostri dati sono in possesso di qualcuno se non viene assicurata l'anonimità dei dati e la privacy completa naturalmente possono diventare diciamo un problema anche per i nostri dati a questo proposito però faccio una domanda a te perché alla base di tutto questo diciamo c'è anche non solo una forza del partito comunista in grado di mobilitare le persone e di arrivare capillarmente praticamente in tutte le zone ma c'è il confucianesimo di fatto e noi l'abbiamo spiegato tu lo spieghi sempre molto bene quindi mi piacerebbe che lo rispiegassi adesso cioè perché quando noi pensiamo alla Cina pensiamo sempre appunto al partito comunista a tutta una serie di cose che sono permettetevi in termini un po' orientalisti nel senso che vanno incontro a quello che noi pensiamo possa essere diciamo la Cina ma che poi non corrispondono in realtà a quello che era Sì, io qui dico subito che di solito noi abbiamo un'idea della Cina che è molto diversa da quella della Cina reale perché di solito noi la definiamo dittatura e la parola dittatura ha un immaginario che ti fa pensare a uno stato di polizia a un dittatore, a un paese arretrato a un popolo oppresso che sono tutte cose che in Cina non ci sono in realtà certo ci sono degli aspetti da dittatura perché appunto il giornalista che fa reportage che non fa comodo al partito sparisce da un giorno all'altro cioè ci sono chiaramente dei grossi problemi in Xinjiang, in Tibet stesso insomma ci sono degli aspetti da dittatura ma quando noi diciamo che la Cina è una dittatura purtroppo alla fine rischiamo di avere un'idea fuorviante perché la Cina è un regime autoritario anche la questione del Covid appunto non è che la gente è stata in casa e non ha assolutamente messo in discussione la questione della mobilità individuale perché se usciva di casa gli sparavano non è così i cinesi hanno in qualche modo risposto alla mobilitazione richiesta dal partito comunista cinese la mobilitazione popolare è proprio una delle chiavi della politica cinese e affonda le sue radici nel fatto che appunto la Cina è fondamentalmente confuciana e il confucianesimo parte da un presupposto che è totalmente opposto a quello da cui parte l'Occidente cioè l'Occidente dall'antica Grecia parla di democrazia e mette l'individuo al centro quindi esiste l'individuo ed esiste un contesto che è subordinato all'individuo il confucianesimo è esattamente il contrario cioè esiste l'individuo che però è lui ad essere subordinato al contesto quindi nel momento in cui c'è un'emergenza quello che deve fare l'individuo è essendo parte di un ingranaggio non far inceppare l'ingranaggio e fare in modo che l'ingranaggio possa scorrere senza che ci siano ostacoli nel caso del Covid il bene comune, quindi il bene collettivo il bene del paese era quello di far evitare che il contagio diventasse estremo e quindi il cinese ha da solo di sua spontanea volontà non perché è costretto dal partito o dalla polizia sotto casa a stare in casa ha fatto il suo dovere che appunto parte da questo presupposto filosofico che è totalmente diverso e quindi mi raccomando quando si parla di Cina è sempre meglio definirla un regime autoritario perché è vero cioè la Cina è un regime autoritario guidato da un partito unico ma ad esempio lo stesso Xi Jinping non è un dittatore come può essere Kim Jong-un cioè Xi Jinping è passato attraverso un processo pazzesco per diventare presidente della Repubblica Popolare Cinese non è che un giorno si è svegliato e ha detto ah divento il presidente della Repubblica Popolare Cinese come può fare Kim Jong-un che domani può dire mia sorella sarà quella che mi succederà e nessuno può aprire bocca in proposito cioè mi raccomando su questo è molto importante perché capire questa cosa apre un po' la possibilità di capire che la Cina è un paese molto 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 complesso dove appunto i cinesi sono tutt'altro che oppressi sono anzi un popolo vivace creativo pieno di idee economicamente appunto abbiamo visto in questi anni adesso magari Simone lo può raccontare bene le start-up cinesi sono diventate addirittura stato simbolo in occidente proprio l'altro giorno leggevo che Xiaomi ha superato Apple nella vendita dei cellulari quindi ormai TikTok fa parte della nostra quotidianità cioè ormai la tecnologia cinese che chiaramente è nata da creatività da laboratori di persone che hanno idee cioè non è che appunto c'è questa cappa oppressiva della dittatura questa è proprio una cosa fuorviante legata alla Cina questo è molto importante secondo me e quindi appunto Simone tutto questo io appunto io praticamente i nostri due libri sono complementari bisogna leggerli tutti e due diciamocelo cioè si parte e bisogna leggerli tutti e due perché il mio dà una visione molto di panoramica cioè che cos'è la Cina oggi e tutti i vari temi che hanno a che fare con la Cina invece quello di Simone è interessantissimo perché approfondisce la parte della tecnologia che in realtà è pure la parte che sta di base allo scontro pazzesco tra Cina e Stati Uniti perché diciamolo c'è il problema per cui Trump e l'America è così in qualche modo aggressiva e e la Cina non accetta questa aggressività è perché per la prima volta la prima potenza mondiale si trova qualcuno in grado in qualche modo di fargli una concorrenza vera cioè l'unico paese che può fare concorrenza agli Stati Uniti sulla questione tecnologica e soprattutto anche sulla questione del 5G ovvero l'internet veloce da cui dipenderanno tutte le nuove tecnologie l'internet delle cose l'intelligenza artificiale le smart city tutte queste cose qui è la Cina e chi controllerà il 5G nei prossimi decenni chiaramente sarà quello che ha un vantaggio di un certo tipo a livello geopolitico e economico mondiale quindi non so Simone vogliamo un po' spiegare questo punto sì intanto chiedono di ricordare i titoli dei libri ah sì facciamoli vedere facciamoli vedere e vabbè ma tu fai vedere il tuo io faccio vedere il mio dai allora il mio il mio si chiama Nella testa del dragone ed è mondo adori ed è già disponibile quello di Simone si chiama Red Mirror titolo secondo me favoloso Red Mirror la terza esce giovedì 14 maggio però è già preordinabile dappertutto il mio su Amazon non si trova ma si trova in tutti gli altri posti perfetto insomma in qualche modo lo trovate lo trovate ok e allora praticamente sì quello che diceva già da prima sì infatti si vede un po' scura anche io ti vedo eh lo so non so ragazzi purtroppo scusate intanto che parliamo di 5G di internet delle cose poi abbiamo questi esatto a proposito di esatto di connessi veloci allora la questione del 5G è fondamentale perché noi stiamo assistendo di fatto a un cambiamento epocale nel senso che noi siamo abituati siamo nati cresciuti anche chi è più giovane diciamo quantomeno di me siamo nati cresciuti in un mondo fortemente influenzato diciamo dal cosiddetta dalla cosiddetta cultura occidentale ma soprattutto americana se andiamo a cercare qualcosa di distante nel senso che nel nostro immaginario collettivo il soft power americano ha saputo esprimersi al meglio nel senso pensiamo al cinema pensiamo alle serie tv oggi o alla musica o alla letteratura ad esempio quanti autori americani una persona ha letto in più mediamente rispetto a autori cinesi quando vinse il premio Nobel Moyen ad esempio un famoso scrittore italiano disse tipo e questo chi è per dire quanto diciamo anche autori di ultra nicchia siano ancora più di nicchia probabilmente in Italia nel senso che la distanza culturale che noi abbiamo rispetto alla Cina tanto più perché appunto abbiamo un sistema valoriale diverso probabilmente non permetta alla Cina diciamo di poter arrivare con il soft power come ha fatto come ha fatto gli Stati Uniti anche per questo ogni tanto la Cina ha dei comportamenti come dire un po' da elefante in una gelielleria nel senso che a volte soprattutto a livello diplomatico non si sa più di tanto magari non si sapeva più di tanto relazionare ad esempio con contesti molto diversi da quelli asiatici dove invece se la comanda di fatto un po' come faceva non so gli Stati Uniti in America Latina insomma sono zone in cui alcuni paesi esercitano un'influenza molto forte noi siamo stati abituati quindi ad avere la consapevolezza che tutto quello che arrivava di nuovo di figo di cool arrivava dagli Stati Uniti pensiamo all'iPhone agli smartphone eccetera questo in realtà perché accade? perché gli Stati Uniti raccolgono hanno raccolto come dire degli investimenti che sono stati fatti soprattutto nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia nel secondo dopoguerra quando gli Stati Uniti investivano tantissimo sulla cosiddetta diciamo ceto intellettuale quindi scienziati ricerche era lo Stato che interveniva in maniera molto forte tra l'altro in questo tipo di finanziamenti la Silicon Valley che è diventata praticamente l'esempio poi dell'imprenditoria in realtà comunque è stata supportata moltissimo dallo Stato americano a un certo punto per tutta una serie di motivi che non stiamo qua a dire che hanno a che vedere comunque con dottrine che hanno immaginato più uno Stato più liquido meno presente nella società perché comunque il mercato si autoregola ed è in grado di sviluppare forze produttive come diciamo anche senza l'intervento di uno Stato centrale hanno portato però agli Stati Uniti via via come dire quasi a dimenticare con l'aspetto di diminuire moltissimo gli investimenti in quel settore proprio nel momento in cui la Cina invece li aumentava prendendo proprio esempio dagli Stati Uniti è famosa la frase di Dan Siopi che è stato praticamente il leader cinese che ha aperto la Cina al mercato mondiale quella del non importa che un gatto sia bianco e nero l'importante cacchiappi il topo ultra abusata come citazione però indica quel pragmatismo possiamo definirlo così della Cina che considera praticamente fuori da ogni come dire da ogni approccio ideologico tutta una serie di soluzioni cioè nel momento in cui il capitalismo sembrava alla dirigenza cinese la soluzione migliore per sviluppare praticamente il paese per farlo crescere per aumentare il benessere della popolazione l'hanno utilizzato molto semplicemente pur ammantandolo delle cosiddette caratteristiche cinesi la vera svolta è avvenuta nel 1989 che è una data che tutti noi ricordiamo il massacro degli studenti la repressione violentissima di tutte le proteste che avvennero in quell'epoca lì però il partito come dire da quel momento lì in poi si rese conto di avere praticamente una scarsa situazione nei confronti ad esempio di tutto il ceto intellettuale perché all'epoca veniva soprattutto privilegiato il lavoratore il contadino e si è messo a finanziare in maniera massiccia progetti di ricerca soprattutto ultra tecnologico oggi in Cina già si usano computer quantistici vengono lanciati satelliti quantistici c'è stato un avanzamento incredibile proprio perché sono stati finanziati con piogge praticamente di soldi anche progetti non immediatamente commercializzabili quindi oggi la Cina raccoglie questi risultati perché questo processo è iniziato praticamente a fine degli anni 80 proprio nel momento in cui gli Stati Uniti invece mollavano praticamente il finanziamento di tutta una serie di settori e oggi noi assistiamo quindi a una situazione nella quale c'è una sorta di inversione nel senso che tutto quello che è innovazione tutto quello che diventa come dire accrescimento del valore in termini ad esempio di prodotti e di produzione sta avvenendo in oriente perché poi noi adesso stiamo parlando della Cina ma pensiamo che entro 2050 4 su 5 paesi più potenti economicamente al mondo saranno asiatici quindi stiamo assistendo di fatto a un processo che ci sconvolge anche il nostro sistema valoriale quindi a volte è molto complicato come dire ammettere anche che in un altro continente con una storia completamente diversa dalla nostra sono più avanti molto semplicemente di noi e proprio questo gap che gli Stati Uniti hanno letto diciamo nei confronti della Cina a fronte anche di una loro perdita di importanza nel mondo già Obama aveva tentato di come dire gestire questa cosa Trump ovviamente l'ha gestita a suo modo quindi con il protezionismo e con una guerra praticamente dei dazi contro la Cina ma la guerra dei dazi nasconde dietro la necessità per gli Stati Uniti di rallentare praticamente la corsa cinese al 5G perché chi arriva prima al 5G che per noi significherà navigare magari leggermente più veloce scaricare un po' più veloce ma che significherà soprattutto pensiamo all'elaborazione dei dati ad esempio in una situazione come la pandemia la necessità di elaborare velocemente i dati per avere referti o per avere possibilità ad esempio di cura produrrà tantissimi punti di PIL e soprattutto moltissimi posti di lavoro e quindi naturalmente chi arriva prima avrà un vantaggio competitivo e strategico fondamentale nel resto per il mondo e quindi è questo la vera diciamo il vero oggetto del contendere tra Cina e Stati Uniti è questo che poi si ammanta naturalmente di tutta una serie di come dire di China 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 da parte di Trump di risposte cinesi altrettanto a volte come dire completamente fuori luogo e su questa cosa del soft power in realtà io invece vorrei che Giada raccontasse un po' l'abbiamo citato più volte Xi Jinping vorrei che raccontasse un po' visto che è anche un tema molto importante nel suo libro e che è fondamentale per capire in realtà appunto come pensano i cinesi Xi Jinping ha lanciato il suo sogno cinese che già dice molto ad esempio dell'approccio rispetto soprattutto appunto al sogno americano quindi vorrei che spiegassi un po' intanto da dove arriva visto che hai detto prima Xi Jinping ha fatto tutta una serie di come dire ha fatto la gavetta anche a molti politici nostrani o a Trump che è semplicemente un miliardario e si è potuto praticamente pagare una campagna diciamo elettorale miliardaria ma di fatto non ha mai gestito niente se non un'azienda ovviamente aziende varie ma a livello politico niente e in più se ci racconti il sogno cinese e come dire quella che è la firma storica di Xi Jinping praticamente nella storia proprio cinese che è la nuova via della seta ok tu hai l'orologio giusto per capire quanto tempo che ora è? 35 ah ok perfetto allora sì Xi Jinping è personaggio secondo me il mio libro parte da lui perché secondo me è proprio imprescindibile parlare di Cina adesso senza partire dalla sua figura che io trovo in qualche modo simbolica anche la sua storia è simbolica di tante cose della Cina contemporanea Xi Jinping è un principino rosso figlio di un eroe della rivoluzione che aveva aiutato Mao Zetun durante la lunga marcia la sua vita è tipica anche se lui è chiaramente elite però comunque la sua biografia ha dei tratti che hanno caratterizzato molto la vita anche di tutti i cinesi nati negli anni primi anni 60 fino agli anni 50 ovvero con la rivoluzione culturale che è stato un periodo che è andato dal 1966 al 1976 che è stata una lotta di potere interna al partito comunista per cui Mao voleva riprendersi il suo potere in tutta la sua potenza appunto però il padre di Xi Jinping cade in disgrazia viene messo in carcere e Xi Jinping come milioni di altri giovani viene mandato nelle campagne a studiare i veri valori rivoluzionari dagli unici in grado di farlo ovvero i contadini quindi lui sta a sette anni a Yanjie nella campagna dove lui fa partire la geografia del suo essere il presidente del popolo perché Xi Jinping è molto populista in realtà è un politico cinese molto populista perché appunto fa questa gavetta di sette anni che ancora adesso viene ritenuto il punto in cui lui dice io lì ho capito quali erano i valori qual era la via della Cina fondamentalmente in quegli anni mentre mi trovavo con gli umili con quelli che dopodiché Xi Jinping torna a Pechino dopo questi sette anni in campagna e nonostante il padre sia ancora in prigione decide di entrare nel partito comunista cinese a differenza dei suoi fratelli che ad esempio non faranno la carriera che non sceglieranno la carriera che sceglie lui quindi fa dieci tentativi prima di riuscire a essere ammesso nel partito comunista cinese e dopodiché inizia una gavetta pazzesca perché lui ha veramente governato durante questi ultimi anni ha governato tutte le province più problematiche della Cina dalla più povera alla più corrotta quindi fa una vera gavetta in cui ripeto è populista nel senso rinuncia alle ville che venivano date ai funzionari di partito per lasciarle ai veterani dell'esercito in pensione rinuncia alle auto che gli spettavano quindi questa vita frugale comunque questo stile di vita in qualche modo frugale che cozza con il funzionario il segretario di partito delle regioni tipico che invece era lusso sfrenato cene tutta una serie di anche status symbol orologi poi cosa fa a un certo punto sposa Peng Li Yuan Peng Li Yuan è una cantante intanto è un generale dell'esercito popolare di liberazione perché però soprattutto Peng Li Yuan è un soprano io vi invito ad andare su youtube a cercare i suoi video quello che facciamo a volte quando registriamo Rishow esatto ci mettiamo a imitare queste cose ci regali un acuto alla penna ecco queste cose però l'impostazione vocale è completamente diversa anche qui vedi noi diciamo soprano e abbiamo in mente il soprano occidentale il soprano in Cina è un'altra cosa quindi andate a sentire o youtube oppure la prima puntata di Rishow che è il podcast che io faccio con Simone che viene prodotto da Piano Pi che è gratuito e disponibile ovunque per sentire cos'è un soprano cinese che è una cosa molto diversa dal nostro e lei quando si sposano è molto più famosa di lui perché lei è la stella del programma del capodanno cinese che è un programma a cui assistono una media di 800 milioni di persone quindi questa cosa all'inizio crea anche un po' di imbarazzo nella nomenclatura del partito perché dicono boh questo è più famoso lei è più famosa e invece in realtà lei si rivelerà un'arma pazzesca per Xi Jinping un po' perché essendo un generale dell'esercito ed essendo inserita negli ambienti di militari di Shanghai lo aiuta a entrare negli ambienti militari di Shanghai che poi saranno quelli che lo porteranno in qualche modo a diventare effettivamente il presidente e quindi e in più lei è un po' sarà diventerà la prima first lady un po' all'occidentale nel senso che quando loro due scendono dagli aerei per i viaggi ufficiali lei viene vista come icona di stile escono gli articoli con i vestiti che lei indossa insomma quindi delle mosse diciamo per avvicinarsi in qualche modo al popolo e quindi Xi Jinping ti ricordo solo una cosa che c'è alcuni giornalisti hanno raccontato che andarono a intervistare Xi Jinping quando ancora non era nessuno e lui la prima cosa che faceva quando arrivavano in casa gli faceva vedere la foto di Pen Liu e diceva è mia moglie esatto giusto per mettere in chiaro insomma quindi questa coppia questa coppia perché in realtà è sicuramente la coppia che ha funzionato porta piano piano Xi Jinping a scalare perché appunto ripeto c'è ancora un discorso meritocratico in Cina legato ai funzionari di partiti che scalano e diventano poi segretario del partito e presidente della Repubblica Popolare Cinese e lui diventa nel 2013 diventa presidente della Repubblica Popolare Cinese con delle idee molto chiare in realtà perché ha una visione molto chiara di quale deve essere il futuro della Cina e il sogno cinese è diciamo lo slogan per antonomasia di Xi Jinping sogno cinese che chiaramente a noi rimanda subito al sogno americano ma che tornando al discorso sul confucionesimo di prima ha una differenza fondamentale cioè in America il sogno americano è io faccio fatica mi impegno e ho successo in Cina il sogno cinese io faccio fatica mi impegno e ho successo e con me ha successo il mio paese la mia nazione quindi vedete c'è anche qui questa dimensione collettiva in qualche modo e nel sogno cinese di Xi Jinping una delle caratteristiche principali è il progetto della nuova via della seta di cui tutti avrete sentito parlare che per la prima volta nella storia nel senso che la Cina storicamente non si è mai proiettata all'esterno dei suoi confini e poi magari parliamo del TNCA parliamo diciamo perché e chiediamo a Simone se ci spiega cos'è il TNCA ma per la prima volta la Cina esce dai suoi confini e programma questo progetto che si chiama nuova via della seta che comprende dei territori dei corridoi economici che attraversano l'Asia l'Africa e l'Europa quindi tre continenti ma che in realtà poi sono presenti anche in Sud America quindi è proprio un piano globale di accordi economici di infrastrutture e patti bilaterali che viene definita la globalizzazione con caratteristiche cinesi quindi una globalizzazione a guida cinese alternativa a quella americana e qui torniamo ai discorsi di prima su Cina America sulla concorrenza che c'è e soprattutto sul fatto che la Cina cosa ha fatto negli ultimi anni l'abbiamo visto con la tecnologia l'America ha smesso di investire e la Cina ha iniziato a investire così è successo in tutte le altre cose dove l'America ha lasciato un vuoto appunto anche a livello di geopolitica l'America si è sempre più ritirata la Cina si è allungata diciamo ha preso ha riempito il vuoto lasciato dall'America e la nuova via della seta è uno di questi di questi tasselli di questa di questo come si può dire di questo progetto di questo idea dovevi dire mastodontico però aiuto esatto poi ho detto mi sgrida ma è mastodontico il progetto che fa parte però di una visione del mondo cinese che in questo momento inizia a essere forte perché banalmente l'Italia in maniera particolare ha dimostrato che firmando l'anno scorso a marzo dell'anno scorso il memorandum sulla via della seta che in realtà l'influenza cinese è forte perché noi siamo stati il primo paese del G7 a dare un riconoscimento politico al progetto della Cina che non è un nostro alleato storico naturale e per questo che tra l'altro abbiamo anche creato un po' di scompensi sia con gli americani che con i nostri alleati europei vuoi aggiungere qualcosa? no volevo aggiungere quello che hai accennato visto che adesso faccio io la parte più del sinologo questo è importante però perché noi intanto visto che stiamo procedendo un po' anche per smentire tutta una serie di luoghi comuni o comunque di appunto di percezioni che si hanno su che cosa sia la Cina noi appunto abbiamo avuto da molto tempo l'idea di un paese arretrato povero quello delle cinesate no delle fake e dei diritti ovviamente mancati dei lavoratori sfruttati e delle zone rurali molto povere intanto dal 2011 la Cina è un paese a maggioranza urbana che è un cambiamento storico epocale a causa anche di un'urbanizzazione complessa che ha portato piccoli centri a diventare metropoli internazionali pensiamo a Shenzhen che è praticamente come dire il centro il fulcro del modello praticamente cinese che fino a 60 anni fa era un villaggio di pescatori abbastanza anche arretrato noi quindi pensiamo sempre alla Cina come un paese in difficoltà perché abbiamo ancora l'eco di quello che i cinesi chiamano il secolo delle umiliazioni cioè quel periodo che va più o meno da metà dell'ottocento fino praticamente al 1949 quando nasce la Repubblica Popolare Cinese un paese appunto occupato da potenze straniere con una dinastia che era quella dei Manchu dei Qing che praticamente insomma una decadenza totale completa ma prima di questo periodo qua per millenni la Cina che infatti in cinese è Zhonguo che vuol dire centro del mondo la terra di mezzo è sempre stata invece il paese più potente non solo in Asia ma percepito come tale anche dall'occidente nel senso che abbiamo moltissimi esempi d'accanto ai gesuiti che andavano in Cina e dicevano che era il paese in assoluto più avanzato perché rettosi da una diciamo dinastia imperiale che viveva nel centro del centro cioè nella città proibita ma retto soprattutto dai mandarini cioè da funzionari da un'amministrazione supercolta che arrivava praticamente complicatissimi difficilissimi che ancora oggi tra l'altro sono in uso in Cina che hanno ispirato anche moltissime amministrazioni per dire occidentali i concorsi francesi prendono proprio spunto ad esempio da quelli da quelli cinesi all'epoca la Cina considerava tutti quelli che non erano cinesi molto semplicemente barbari per farvi capire diciamo qual era anche la percezione di sé e del proprio potere all'epoca era la Cina della cosiddetta via della seta cioè che aveva diciamo scoperto praticamente attraverso tra l'altro un inviato di un imperatore che doveva andare in realtà a fare degli accordi con delle popolazioni ribelli per praticamente difendere il potere in realtà scopre nuove vie commerciali e la seta arriverà addirittura anche nell'antica Roma i romani si innamoreranno in maniera follemente proprio della seta e comincerà quel giro di rapporti praticamente tra Cina e mondo occidentale che però i cinesi hanno sempre considerato in maniera univoca nel senso che gli stati i paesi e le popolazioni fuori dalla Cina appunto i barbari non erano considerati alla pari dei cinesi esisteva un rapporto che prevedeva praticamente dei tributi cioè le popolazioni straniere arrivavano in Cina davano dei tributi e la Cina praticamente come dire dava il proprio assenso alla loro esistenza anche per questo la visione geopolitica del mondo è sempre stata appunto retta dalla teoria della cosiddetta TNCA cioè tutto quanto sta sotto il cielo praticamente il potere della Cina noi dobbiamo immaginarci che da cerchi concentrici dal centro quindi dalla città proibita via via si allargava e ovviamente perdeva di intensità naturalmente laddove questi cerchi concentrici erano più distanti nel senso che a molti imperatori praticamente dell'Occidente non importava niente addirittura arrivarono inglesi francesi che ad esempio ci fu il caso celebre naturalmente degli inglesi che rifiutarono l'inchino di fronte all'imperatore e vennero cacciati senza alcun problema proprio perché la Cina appunto aveva quel concetto lì un concetto che in realtà è molto radicato ancora oggi nella Cina non con la supponenza magari degli imperatori dell'epoca però il concetto che in realtà diciamo la Cina non prevede non ha come dire in animo un'espansione muscolare del proprio diciamo della propria influenza praticamente Deng Xiaoping disse proprio per ricordare ancora lui che la Cina non avrà mai alcuna diciamo ambizione di essere il paese più potente e che comanda praticamente il mondo non è un caso se andiamo a vedere anche negli ultimi tempi che l'influenza cinese pur essendo cresciuta molto anche in zone come dire a rischio come ad esempio in Medio Oriente o zone particolarmente complicate ad esempio in Africa non ha mai esportato il suo modello attraverso ad esempio guerre anche perché probabilmente se chiediamo a un cinese o anche allo stesso Xi Jinping qual è il modello cinese in realtà non lo sanno probabilmente neanche loro descrivere perché è talmente tutto cangiante è tutta appunto legata a quel meccanismo di pragmatismo però è importante capire come la proiezione cinese nel resto del mondo non sia antagonista ma sia in qualche modo come una sorta di influenza che emana praticamente dal centro e che arriva a influenzare tutti i posti sotto lo stesso cielo che è quello però cinese questa cosa qua è una cosa che noi dobbiamo tenere presente quando ad esempio facciamo degli accordi con la Cina la Cina è un paese che ha molto rispetto di chi ha posizioni forti e determinate pensiamo semplicemente alla Germania ad esempio che ha grandi rapporti cominciare con la Cina ma che non esita a criticare anche Pechino quando è il momento mentre tende naturalmente ad approfittare della sua forza rispetto a chi come dire si pone in una posizione decisamente su Cina agli interessi cinesi io volevo aggiungere solo una cosa rispetto a quello che hai detto tu che appunto questa visione del TNCA e la storia cinese la cultura cinese fanno sì che la Cina sia un paese che nella sua proprio nel suo percorso ha cinesizzato tutto quello con cui arrivava in contatto cioè la cultura cinese è talmente forte che ha preso il nostro capitalismo e l'ha reso con caratteristiche cinesi ha preso la globalizzazione e l'ha reso con caratteristiche cinesi ha preso il web noi occidente abbiamo pensato per tantissimo tempo che il web la rete avrebbe portato in Cina la democrazia avrebbe aiutato il processo e cosa ha fatto la resa cinese ha creato un sistema chiuso di web che in questo momento è esportato nel senso che ci sono paesi al mondo che guardano al modello cinese di internet come la Turchia non so mi viene in mente alcuni paesi dell'Europa dell'Est quindi bisogna quando si tratta si ha a che fare con la Cina bisogna sempre tenere presente che hanno una cultura talmente forte di cui sono molto orgogliosi hanno anche un po' questa percezione come questa cosa del TCI è veramente molto importante per capire un po' la mentalità cinese che appunto pensano che la loro cultura sia comunque così forte da poter in qualche modo cinesizzare e lo fa lo ha fatto lo continua a fare storicamente quindi questa è una cosa da tenere molto da chiedere ai paesi patriatici esatto volevo aggiungere una cosa sì certo vai vai scusate anche perché vorrei finire un po' prima per fare poi tutte queste cose a proposito di grande dimestichezza vedo che ci sono molte domande su Hong Kong sulle elezioni eccetera ora al di là di consigliarvi i libri abbiamo consigliato il nostro podcast Rishow però seguiteci pure su Instagram perché vedo che c'è ad esempio una domanda sugli ultimissimi sviluppi di Hong Kong perché diciamo ad esempio io mi sto cimentando ultimamente dove spiego anche alcune cose di Hong Kong fantastiche Shada fa stories e post attraverso i quali diciamo cerchiamo un po' di raccontare anche le ultime novità che vediamo perché avendo questa sessione della città ci ne occupiamo tutti i giorni ne parliamo tutti i giorni e adesso vabbè ovviamente in quarantena non ci vediamo ma ne parliamo ugualmente quindi seguite anche i nostri profili Instagram così ad alcune domande che ho visto passare il nostro podcast sicuramente anticipiamo non sappiamo bene quando riusciremo a fare la seconda serie di Rishow ma vi promettiamo una puntata su Hong Kong questo sicuramente adesso la lancio così lo dobbiamo fare un'altra cosa che volevo dire per chiudere e tornare al discorso di prima una cavolata e tornandomi diciamo alla guerra Cina-America laboratori covid complottismi vari Simone vi ha praticamente spiegato perché raccontandovi che la Cina appunto ha subito questo processo di urbanizzazione così masticcio e così veloce il fatto che molto probabilmente questo benedetto virus sia stato effettivamente uno spillover perché la Cina ha veramente trasformato le campagne in tempi brevissimi in megalopoli pazzesche e gli spillover spesso accadono quando i sistemi diciamo naturali vengono sconvolti e quindi un po' quello e un po' il fatto che comunque l'Asia è il posto più densamente popolato al mondo quindi chiaramente nel momento in cui parte un focolaio è molto più facile che diventi vai a sto punto aggiungiamo pure questa cosa che visto che chiudiamo in bellezza non è vero che i cinesi mangiano pipistrelli pangolini ecco bravo nel senso che sì per dire la zuppa di pipistrello è di grande auspicio per tutta una serie di motivi legati alla lingua cinese eccetera però non è che in Cina vai al ristorante e ordini una zuppa di pipistrello ecco non è assolutamente usuale così come non è usuale neanche anche se adesso l'hanno vietato per fortuna ma neanche prima era usuale andare in un ristorante e farsi che ne so gli spiedini di cane non tutti i ristoranti dovevi andare in ristoranti particolari dove ad esempio io non sono mai andato però dovevi andare in ristoranti particolari però perché i pangolini i pipistrelli eccetera sono molto utilizzati in Cina e non solo per la medicina tradizionale cinese vengono utilizzati molto organi o parte di organi ad esempio la bile di orso o tutta una serie di cose vengono utilizzati per la medicina tradizionale cinese e che ha un giro di soldi talmente alto in Asia che fa sì che come dire gli ecosistemi nei quali questi animali vivono sono costantemente violentati praticamente dall'uomo non solo in Cina ma in generale in molte parti del mondo sia in Asia sia in altre parti e per questo praticamente diciamo questo commercio questo business è talmente alto che è molto complicato per il partito comunista ad esempio chiudere questi mercati perché probabilmente i funzionari locali non vogliono chiuderli perché sanno che poi hanno tutta una serie di conseguenze economiche anche in questo caso quindi sgombriamo il campo da questa cosa ridicola che i cinesi mangiano topi i pipistrelli eccetera è vero che i cinesi in generale gli asiatici mangiano quasi tutto però ecco non è una cosa così naturale orario sì dobbiamo chiudere ok allora ricordiamo i nostri libri che sono di Simone Pieranni esce il 14 maggio Red Mirror il nostro futuro si scrive in Cina libro importantissimo perché non possiamo più ignorare qual è la realtà e invece trovate il mio libro ovunque purtroppo non su Amazon spero che presto anche su Amazon nella testa del dragone in cui è una fotografia invece più ampia della Cina e ricordiamo anche a tutti il nostro podcast che si chiama Reshow che è prodotto da Piano P ed è disponibile su tutte le piattaforme gratuitamente quindi passate parola leggeteci e poi ovviamente dobbiamo andare abbiamo un pullman dove dobbiamo andare a vendere anche delle pentole esatto va bene è stato bellissimo grazie a tutti di essere rimasti con noi ciao Simo ciao grazie a tutti